Io sto prima di dover sbassarla, magari sbassare un po' di sconti, metti tutte le marche e ti farai il bar su tutto. Per andare sul computer, passare le etichette e a padari. A questo punto credo che sia più intelligente mettere fuori i prezzi di una padaria. Basta codici, basta roba, mette un po' di scontistica diversa. Lui ti mette una padaria a 15.000 e la potigo da 5.000, metti 8.000 e ti capisci a 20.000. Piuttosto che il prezzo lo metti, mettiti i prezzi per i metti molto carbine e quindi arrivi al 20%. Dove poi a fine degli anni di lunge. Se la metti», dicevi che la padaria si tratta da un po' di metà. No, non c'è ma la paura profesa, spieghi che lo no, 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 no e se un'amete percipa che sia padaria e di a me no, 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 no no, no